ciao ragazzi il coach si allena sette minuti hammer up as many rounds as possible quindi in sette minuti più giri possibili ci provo 14 calorie sette understand push up e sette sto qua quindi occhio rimane collegato ma è 53 partenza occhio cronometro è 53 si parte con il tempo si parte su compito su compito su compito e su compito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.